Verrà inaugurato tra breve a Montesilvano il centro del riuso, uno dei pochi nella nostra regione, un'importante iniziativa firmata dal comune di Montesilvano con Formula Ambiente. Assessore, questa iniziativa è fortemente voluta dalla vostra amministrazione, perché? È fortemente voluta dall'amministrazione perché consente di poter migliorare ancora il ciclo dei rifiuti, quindi si possono avviare la fase del riuso tutti quei materiali che per noi non hanno più utilità in casa, ma possono benissimo essere utili per altre persone, quindi essere riutilizzati. Si riesce in questa maniera a ridurre la quantità di materiali da smaltire e a creare anche un beneficio a coloro che potranno prendere questi materiali. La regione attraverso un bando qualche anno fa ha consentito ai comuni di poter utilizzare un finanziamento a fondo perduto per circa il 70% delle spese. La restante parte è stata messa dal comune di Montesilvano. Tutti i cittadini di Montesilvano possono portare gli oggetti, le suppellettili che non usano più, che hanno in casa, come il mobilio, lampadari, abbigliamento, l'abbigliamento è quello per bambini, passeggini, carrozzine, stoviglie. Poi in una seconda fase sarà possibile portare anche altre cose come l'abbigliamento e come gli elettrodomestici. Chi ha desiderio, necessità di vedere cosa può venire a prendere, potrà consultare un catalogo multimediale, stiamo allestendo una pagina web dove prima ancora di venire qui si potrà consultare questo catalogo e poi successivamente venire qua. Tutto questo avviene in maniera gratuita, cioè chi consegna non prende soldi e chi preleva non prende soldi. Questa è un'attività, un'iniziativa voluta dalla regione Abruzzo e poi recepita dal comune di Montesilvano appunto per favorire una seconda vita alle cose. La sostenibilità passa attraverso l'impegno di tutti i cittadini, la consapevolezza che ognuno è responsabile delle risorse che noi consumiamo e quindi dobbiamo stare attenti ai nostri acquisti e quando noi ci dobbiamo disfare di qualcosa pensare se quello di cui ci vogliamo disfare sia già un rifiuto o possa servire a qualche di un altro, specialmente in questo tempo di crisi dove magari ci sono delle persone che hanno scarse disponibilità economiche.